Una protesta importante perché c'è da rinnovare questo contratto ormai da diverso tempo. È uno dei pochissimi contratti rimasti ancora aperti, gli altri sono tutti rinnovati. La protesta è per impedire alla controparte di avanzare proposte inaccettabili che vanificherebbero la modesta richiesta che è di appena 60 euro. Loro richiedono invece negazioni dei diritti, si ritorni indietro rispetto a maggiorazioni che si usano in questo settore. Faccio un esempio, lo straordinario che si usa parecchio dal 35% di maggiorazione propongono di portarlo al 10% che non solo vanificherebbero ma porterebbero indietro i lavoratori in termini anche salariali che di diritti. Sono 15 mesi che non si rinnova il contratto nazionale del gas acqua. Ci sono tanti lavoratori che quindi sono rimasti completamente senza contratto. I vostri interlocutori sono Federacqua, Federutility ma anche l'ACA di Pescara? Sì, perché comunque fa parte dell'associazione dell'imprenditore dell'acqua quindi anche l'ACA fa parte delle nostre controparti. Quindi è per questo che i lavoratori dell'ACA insieme con i lavoratori di tutto il settore quindi abbiamo anche l'Italgas di Montesilvano che sono oggi in sciopero così come tutto il territorio nazionale. Siamo compati perché è molto importante. Ci sono delle controproposte delle aziende molto molto pesanti che ledono i diritti dei lavoratori al di là di quello che è la parte economica che oltretutto è anche minima la richiesta rispetto solamente alla inflazione reale. Grazie. Grazie. Grazie.